La scorsa settimana, per quanto riguarda il coronavirus del territorio del Cilento e Vallo di Diano, si è conclusa bene la positività dell'infermiera del San Luca di Vallo della Lucania, originaria di Napoli ma residente a Casalvelino, ha per fortuna avuto risultati positivi. I test sierologici e i vari tamponi effettuati su tutti i sanitari del reparto di medicina generale del nosocomio vallese hanno dato esito negativo. Nella serata di ieri registrata la negatività al Covid-19 anche dal tampone effettuato sul compagno della donna, originario di Pollica. Ad Agropoli, intanto, la situazione continua a migliorare. Lo scorso sabato, infatti, sono state annunciate dal sindaco Adamo Coppola altre due guarigioni in città. Si tratta del ristoratore Giovanni Petrizzo e della moglie. Sulla via della guarigione anche il figlio, il quale in settimana sarà sottoposto al terzo tampone di verifica per poterlo dichiarare guarito. Ora restano cinque i casi in città con 21 guariti e tre decessi. Nel Cilento i contagi attivi da coronavirus al momento sono cinque ad Agropoli, quattro a Casalvelino, uno a Perdifumo e Laurino. Nella provincia ieri non sono stati registrati nuovi casi nei laboratori del Ruggi. Infatti, sui 636 tamponi analizzati relativi a residenti della provincia di Salerno sono risultati tutti negativi.